allora oggi 7 aprile 2023 una data apparentemente insignificante ma oggi ho fatto una cosa nuova un'altra cosa nuova in questo periodo nuovo e di rinascita una cosa che mi frullava in testa da un po di tempo e ho detto la voglio fare voglio provare cosa ho fatto ho messo l'orecchino ho messo un orecchino appena messo sono stato a tor san lorenzo da franco oro su indicazione di un mio allievo quindi comunque una cosa nata anche così nella nella musica durante una lezione di canto oggi una bellissima giornata giornata in cui sono stato proprio da solo tutto il giorno e ho detto oggi pomeriggio sono libero siccome non ho le lezioni del venerdì perché comunque pasqua no si chiudono le scuole eccetera ho detto oggi vado a fare voglio provare vado a fare questa cosa avevo anche un po di paura no la paura del bambino del dolore della cosa della novità e invece tutto perfetto tutto molto liscio zero dolore praticamente zero e quindi ho messo l'ho anche scelto me l'hanno fatto scegliere è stato gentilissimo franco oro di tor san lorenzo persona squisita non mi ha fatto pagare nulla perché c'era c'era stato particolarmente cortese perché c'era questa conoscenza in comune e quindi sono contento è andata bene e adesso mi godo questa novità e vado a fare un piccolo festeggiamento personale così da solo a mangiarmi a fare una piccola merenda adesso sono le 5 del pomeriggio quasi vado a farmi una piccola merenda che la signora lì del bar conforti ha fatto la pastiera e non è niente male è una buona pastiera non è una buona pastiera sì è una buona pastiera e allora tanti auguri e buona rinascita dall'altra parte siamo a pasqua e quindi e quindi testimonio attraverso questo video oggi questa cosa bene ci sta